Storie di una famiglia per bene, il riassunto della seconda puntata. Dopo che il pescherezzo di Antonio è stato bruciato dagli straziota, la famiglia ha dovuto riprendere in mano le eredini della propria vita. Tutti danno il contributo alla famiglia e Antonio scopre la verità riguardo a suo padre. Aveva sempre pensato che non Nicola avesse ucciso il genitore perché lui lo voleva denunciare alla polizia, ma in realtà le cose erano ben diverse. Il padre di Antonio aveva rubato dei carichi di contrabbando a Nicola e per questo lui lo aveva ucciso. Tutti nel quartiere lo sapevano, tranne suo figlio. Dopo aver rappreso la verità, Antonio ricomincia finalmente a vivere e la smette di essere violento con i suoi familiari, ma ormai è troppo tardi perché suo figlio decide di andare via di casa. Cerca di farlo tornare, ma non c'è nulla da fare e poco dopo il ragazzo muore. Maria si impegna costantemente a scuola, riesce ad ottenere tutti ottimo e di conseguenza anche la borsa di studio. Non deve più pagare la retta. Ma Michele, che non ne può più della sua famiglia, che gli tarpa le ali, le chiede di andare a Milano con lui. Lei accetta, ma il giorno dopo viene bloccata da Nicola, che la costringe a scrivere una lettera d'addio al figlio. Maria rimane quindi con i suoi genitori, pronta ad affrontare le sfide della vita. Grazie. 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 Grazie.